Gignola, non so, non so, poi invece c'è qualcuno che ci chiede di fare questo esperimento e noi cogliamo subito la palla al balzo Già, già, visto che siete così bravi, traducestiti dall'italiano in tedesco, il gatto nel carbone Allora, io adesso ho aperto un google traduttore e vado a scrivere, quindi l'italiano, il gatto nel carbone Allora, premetto che io so già cosa esce fuori, molti di voi sicuramente lo sapranno già, ma per chi non sapesse come si traduce, come diventa dall'italiano al tedesco, il gatto nel carbone Il risultato è questo, sentite Il gatto nel carbone Rissentiamolo lentamente, lentamente Giù la musica, vai Il gatto nel carbone Basta, basta C'è il gatto nel carbone Ecco, avete imparato che voi non vada nuova ragazzi E quando si dice che è un'assonanza, no, che è un'assonanza, il gatto nel carbone, il tedesco suona un'altra cosa